Oddio! No! Raga ma che è sta roba? Che figata! Raga ma che è sta roba? Ma che... Ma cos'è? Chi è quello? Ma chi sono quelli? No ma è sempre il tizio della maglia della puma, ma è vestito in altro modo! Raga ma perché sta mappa? Siamo tornati su GoalFit! Yeah yeah! Ragazzi non troppo eccitati eh che poi se no mi tocca... Io sono eccitato, alla mia voce no però! Ah ok, Eren? Quando inizi a registrare dimmelo! Ho iniziato a registrare! Salve a tutti blazer! Va bene, vabbè lasciate anche un like, un'iscrizione, una condivisione, comprate una maglietta, fate una sub, fate tutto! All in one pesa? Pensatelo dal punto di vista sessuale! No, non pensate... C'è un Game Boy, Eren, quindi videogiochi e sesso non... Warning epilessi... Sì ma dove devo tirare io? Ma è la mappa più brutta che abbia mai visto, Dani! Esatto! Dani, Dani dove stiamo andando? Ma ragazzi, lasciate che questo Game Boy gigante vi diverte e vi susciti delle emozioni... Sushi! Ma lo sta succedendo! C'è il drop! Oh yeah! Ma, raga ma c'è Bugs Bunny! Ahahahahahah! Non è la mappa, Dani! Perché? C'è Bugs Bunny... Ma raga ma perché c'è Bugs Bunny tarocco, quello magro? Quello originale non era quello grasso Big Changas? Ma ho fatto all in one, eh? Oppure no? No, non l'hai colpito... No, no, ci sono i ticosini! Ma? Vai! No! Ci sono le righine quelle a briglia, devi colpire quelle, sono i pixel bruciati allo schermo! Nooooooo! Grazie Bugs Bunny che mi indica la via, meno male! Senza di lui non avrei mai capito che devo andare lì! No, 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 infatti! Ma perché ragazzi... Ma c'è il corona, Dani! Oh no! It's Corona time! No, ma guarda sotto te, guarda dove stavo strisciando! No! 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 Lo spruzzino! No, il disinfettante no! Raga ma che cacchio sto vedendo! Che moppa hai scelto, scusa! Non lo so! Non lo so! Aspetta, c'è Bugs che ci sta indicando la via anche questa... Ah, ma i virus ci attaccano? Sì, Fra! Non lo sapevi? Dai, su! Sì! Sì! Come cacchio sei diventato qua, Dani? Non tornare troppo indietro, non tornare troppo indietro! No! Oh boy! No! Fermoni! Ma perché?! E dai! Vai! Madonna! Dani, perché non sei neanche mosso? Perché... No! Beh, crisi nera, Fra! Devo abbassare il volume! Zitto! 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 Crisi! 2,11! Pesa! Crisi quarantena! Ma scusa, perché non basta? Scusami! Voglio rivederlo, Fabio! Cosa? Stiamo di nuovo qua! Ho power! Education! We don't need no education! Perché c'è quello con la verba della puma?! Che cacchio di mappa è?! Oh Dio! Orranzi, Nicole, Tob... Ma perché è una mappa tedesca? È una classe tedesca questa! Come capire quando il video è di Blarz? Dove devo andare? Scusate! Rimbalzare sulla sedia! No! Ok! No! Ok! No! L'hai vissato! Ah! Devo davvero rimbalzare? Guarda! No! Ho preso il cornicione e me l'ha dato lo stesso! Ma no! Ma c'è davvero l'immagine di una scuola! Sulla lavagna! Sì! Ma chi è quello lì con la maglia puma, però? Ma che bella domanda! Fra! Quello è mio zio! Ah! Ok! Ti piace? Ma perché cantano le canzoni dei Pink Floyds? Happy Birthday! Oh che bello! Jean, Julien, Lina, Veronica, Franzi, Tove, Flo, Leoni e Nicole! Voi ci andate al compleanno raga? No! No! Di questi sfigati! Ah! Ah! E' lo stesso discorso che facevano i miei compagni di classe quando facevo io il compleanno! Beh dai! Ci sta comunque! Ci sta certo! Vai dammi una spintarella col piedino! Raga questa mappa non mi piace perché l'avete scelta? Dai l'hai scelta tu! Non è vero! Ma il tizio con la maglia della puma che... Vacci, vacci, vacci! Oh! Oddio! No! Raga ma che è sta roba? Che figata! Raga ma che è sta roba c'ho paura! Ma che... Ma cos'è chi è quello? Ma chi sono quelli? No ma è sempre il tizio della maglia della puma! Mi ha vestito in altro modo! Raga ma perché sta mappa? Ma sarà tipo un meme tevesco? Non lo so! Tanni come miniatura puoi mettere soltanto la facciona strecciata del tizio con la maglia della puma! Ah! Io non so che cosa dire al mio grafico! Che gli dico di disegnare! Che cosa gli dico? Cazzi gli effetti! Vai vai spingimi! No! Si! Sì! Sempismo sbagliato! Vai 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 che recuperiamo! Vai che recuperiamo! Si! 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 Par! Mario in tipus! No ragazzi guardatevi dietro scusate! Oh no devi guidare la palla! E? Ahahahahahahahahahahahahahahahahaha Ma chi hare haampaglia? Ahiiiading, la матchia! Sono poi in giro per la mappa tutti quanti tuX Ma puoi guidare pure quella W? Ma si Dani buongiorno! Non lo sapevo! Ma posso guidarla anche andando in avanti? Grande Daniel! Ce l'hai fatta! E che pali, ma perdo? E no non ce l'hai fatta! Ma ormai è tardi! No, non è mai tardi Sì, non ce la fai in 30 secondi Sì che ce la faccio Devi correre, devi correre Se non cadi ce la puoi fare, forse Al pelo Vai, vai, vai C'è un gatto che dorme Ma c'è un gatto Ma intradilga Ah no, non è Non guardare il gatto Muoviti Muoviti Dani 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 No Vabbè, ma è finito il tempo Niente Ve lo potete dire prima che si poteva pilotare quella W, eh? Infami Scusa, c'era scritto e mi sembrava anche scontato Lo sai che io non so leggere? Cioè, c'era una W rossa Anche se guardi il simbolo Però non so leggere Per questo compro libri solo con le figure Ma perché io non ce la faccio? Gigi Sì No, sì Ah, era lì contro il muro Yes, baseball Mario baseball Ma raga, perché c'è il Colosseo? Ci sono pure i centurioni romani Che ti chiedono 30 euro per una foto Oh sì, partita di baseball Play zone on every base Tier, come funziona il baseball? Spiegalo in due secondi Ho finito anch'io, amici Raga, solo io c'ho un basso Ma perché c'è Tom con gli sci? Che fa la tipo... No, non... Agli sci e fa la tipo os Sì, lo sci! La settimana bianca io e Dani la facevamo in un altro senso Solo perché cucinavamo la pizza fatta in casa Ah, non la passavate dell'uomo focaccino e che vi venne la farina? Zinzi! Pia, 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 pia Porca di quel... Tom! Dammi una mano! Sì! Stavo per essere schiantato da Jerry Arrivo! Arrivo, 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 arrivo Andale, andale, arrivo, arrivo No, Dani! No, Dani! No, Dani! Ok, arrivo, 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 arrivo Ma quello non è Jerry? Ma ancora il tizio ai lati del... Ma si chiama Ziel, quello? C'è una maglia cosiddetta Snipes Raga, vi pagherò i danni morali per aver fatto fare sta matto Grazie, oh yes, biliardo time No, ma porca Raga, che devo fare? Devo farci imbucare dalla mazza del tipo Ah, dobbiamo farci imbucare dal tipo Sì Vedi che c'è un tipo un dildo meccanico lì, no? Ma è una mazza Bra, è un dildo meccanico, dai, lo sai Ah, ok Fatto Vai Beh, perché io no? Yes! C'è pure scritto Don't Rage, non ti arrabbiare Eh, ne arrabbia come, invece, mannaggia Uh, buca Arrabbia! Per favore, alieni, dai, a me piace tantissimo il film T, siate gentili A me piace Paul Non l'hai manco mai visto, solo la locandina È sufficiente per farlo diventare uno dei miei film preferiti di sempre Ehi, ti arrabbiare quel film tradotto in italiano è È Paolo È Paolo Ed è un alieno L'alieno Paolo Ehi, ti arrabbiare pensi dell'alieno Paolo Best movie ever Mi sorprendo che non gli abbiano dato 25 Oscar Vi ricordate Oscar l'alieno che era tutto rosa? No, mie Oscar Sembrava un c***o moscio quell'alieno Ma se ci pensi? Ma smettilo Fra, pensaci, dai Eh no, non ci voglio pensare Era tutto un pisello Tutto E smettilo Tutto il rughino Ora mi tocca mettere l'immagine in editing per far capire perché se no c'è Oddio stavo per fare i book alla fine, no vabbè Eh, l'altro è rannato off time, perfetto Sì, abbiamo tutti rannato Nessuno Nessuno, a posto Io ci stavo per fare all'ultima Poteva essere la mia occasione per recuperare dei punti E invece E invece Dove stiamo andando, mo? L'abistar col baleno di Mario Kart Che bella è, da tutte le parti La Skyline, tipo in PNG spiaccicata Ma è bannabile quel simbolo No, però No, però insomma si lascia capire È un netto di chiamo Eh, questa la schippiamo tutta, allora No, metti tipo Cioè, metti questa parte Schermo nero dove spieghiamo che sta succedendo Allora, c'è una rana che è un dittatore Sventolano delle bandiere rosse Con simboli neri su un cerchio bianco E stiamo sparando una nave, noi Ho fatto calestro nella nave Questo mi sa che non si può mettere nel video Ah, ma la dobbiamo colpire per danneggiarla Ok, ora abbiamo sbloccato il simbolo della pace Ed è tutto quello che vi serve vedere Esatto Aspè che io c'ho ancora le sb***e Dammi una E' Telen Abbracciami papà Gli sono passato sopra la testa Ghostbusters 2 Oh no Ma no, ma guarda che brutti Ma Slimer bianco? Preferisco quelle con le donne Quello con le donne di Ghostbusters Oh no La canzone Ciao Slimer Ah, dobbiamo entrarli in bocca? Eh, sì Ti entro tutto in bocca Eh, Eren Per favore Adesso li entro in gola, Fra Per favore, ci sono delle mamme Che stanno guardando questo video Insieme ai loro figli Signora, viva la keg, viva la keg E ora non li guarderanno mai più Ragazzi, perché non pensate Oddio Ma quello chi è? Joker? Ma questo è il Joker Quello di TikTok Ma è il Joker, ragazzi Il sangue chiama sangue Come fossero le pappe di Goldfit Senza trip mentali C'è Lego Batman Bene Ho recuperato un po' di punti Vediamo la classifica Questa è quella che finisce Ecco, non vediamola più Oh sì World Wrestling Federation Attenzione Goldberg Con una flying clothesline Su Su The Rock No, quello è Batista Ma che è? De Rocco o Batista? Batista lo scalamenta fuori dal ring No, quello è The Rock Mi sa che è finita, ragazzi Nel sottofondo c'è Fantastico Cover Dei Pink Floyd Dani È un progetto di classe Questa mappa Ah Quindi quello ovviamente È il professore Quello con la maglia della puma Cioè tu mi vuoi dire Che hanno creato Sta mappa Dei ragazzini a scuola Come progetto Tipo di informatica Roba del genere Penso di sì Quindi non era Un deep fried meme No Vabbè, i ragazzini hanno detto Mettiamoci i meme dentro Bro 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 Cioè io voglio frequentare questa scuola Facciamo subito i documenti falsi Perché tipo Le varie Le varie voci Le voci di ragazzi Di una classe Sì No, fra Bro Io e te abbiamo frequentato La scuola sbagliata